la giornata dello sport Ciao, che bello rivederti! Siamo pronti per le nuove fantastiche avventure di Imparo giocando con Tom, Susie, Millie e Biff! Oggi è la giornata dello sport e ci stiamo tutti preparando per le gare! Biff, Millie e Tom sono già al campo sportivo! Andiamo da loro! Fai clic sull'etichetta con il tuo nome! Oggi è la giornata dello sport! Vuoi venire con noi? Tom si è iscritto alla corsa con l'uovo e Biff deve riuscire a lanciare delle palline dentro un secchio! Io mi sto allenando per una grande gara che ci sarà dopo! Andiamo! Ci sono un mucchio di cose da fare! Ciao! È la giornata dello sport e ci stiamo preparando per le gare! Io cerco di lanciare queste palline nel secchio! Io mi iscrivo alla corsa con l'uovo! Devo correre tenendo in bocca il cucchiaio su cui è appoggiato un uovo! Ciao ragazzi! Vado davvero forte con il mio skateboard! Sento che oggi vincerò tutte le gare! Millie, nelle gare non puoi usare lo skateboard! Deve correre senza! Oh, ma con lo skateboard è molto più facile! Qualcuno ha visto Susie? Corri anche lei! Li sono passata davanti con lo skateboard! Ciao a tutti! Tutto a posto, Susie! Devo solo riprendere fiato! Dovrei allenarmi ancora un po' per essere in forma e vincere la gara! Se continui a correre, sarai troppo stanca per la gara! No, sono sicura di farcela! Centro! Perché non ti alleni un po' anche tu facendo clic sul campo sportivo? Avrai delle sorprese incredibili! Queste mazze serviranno dopo per giocare a baseball! Ops! È rimbalzata fuori! Centro! In questo gioco sarò il migliore! Ho un... Alcuni animali sono velocissimi! Altri lentissimi! Potrei conoscere il più alto, il più pesante e il più rumoroso! Fai clic su di me per giocare ad animali da record! Vieni con me a conoscere gli animali più strabilianti del mondo! Ciao! Nel mio gioco ti farò conoscere alcuni tra i più sorprendenti animali da record che esistono al mondo! Conoscerai le creature più veloci! Le più alte, le più pesanti e quelle che emettono il verso più forte! Ma attenzione! Devi essere tu a scoprire di quale si tratta! Ecco come funziona! Ti farò vedere tre animali e ti chiederò di indovinare quale di questi detiene il record! Se indovinerai, ti dirò cose sorprendenti su questo animale! Quando avrai indovinato sei animali, ti darò un pezzo del puzzle! Ecco tre animali! Quale di questi è il più lungo animale terrestre? Il serpente, l'elefante o la piovra? Diamogli una medaglia! Il più lungo animale terrestre è un serpente chiamato pitone reale! Questo tipetto squamoso può diventare lungo come un mezzo campo da tennis! Ecco altri tre animali! Quale di questi animali marini può emettere il suono più forte? La balenotter azzurra, lo squale o la piovra? Esatto! Diamogli una medaglia! L'animale con il suono più acuto è una creatura marina! La balenottera azzurra emette un suono che un'altra balenottera può sentire a chilometri e chilometri di distanza! Ecco tre animali! Quale di questi animali vive più a lungo? Lo squale? L'elefante o la tartaruga? Sì, è quello! Si merita una medaglia! Ciao, nonnina! Questa tartaruga gigante con la corazza ricoperta di placche può vivere molto a lungo e raggiungere il doppio dell'età di mia nonna! Un giorno spero di raggiungere anch'io un record! Il più grande esperto di natura al mondo! Saluta questi tre sorprendenti animali! Quale di questi animali terrestri e marini è il più grande di tutti? La balenottera azzurra? L'elefante? O il koala? Esatto! Premialo con una medaglia! L'animale più grande del mondo vive in mare! È la balenottera azzurra che può diventare lunga come dieci automobili in fila! Prova a immaginarne una parcheggiata sotto casa tua! Ecco tre animali! Quale di questi animali terrestri è il più veloce? Il cavallo? Il ghepardo? O la gallina? Esatto! Premialo con una medaglia! Il ghepardo è il più veloce animale terrestre! Corre più veloce di una bicicletta! E addirittura di un cavallo da corsa! Tom dice che ho già un record! Sono il beef più buffo che conosci! Ecco altri tre animali! Quale di questi animali dorme più a lungo durante il giorno? Pensi che sia il cricetto? Il koala? O la formica? Esatto! Diamogli una medaglia! Buonanotte signor koala! Tra tutti gli animali il koala è quello che dorme di più! Ogni giorno rimane sveglio soltanto un paio d'ore! Giusto il tempo che ti serve per mangiare e guardare il tuo programma preferito! Hai indovinato sei animali da record! Visto che sei un campione degli animali da record eccoti un pezzo del puzzle! Fai clic su di me se vuoi conoscere altri favolosi animali! Se invece vuoi tornare alla giornata dello sport clicca sul pulsante con la casa! È bello rivederti! Guarda! eccoti un pezzo di puzzle da inserire! Scopri dove devi metterlo e poi trascinalo nella posizione giusta! Esatto! Bel lavoro! Adesso cerca un altro pezzo di puzzle! Ciao! È quasi l'ora della grande gara! Dai! Andiamo a fare il mio fantastico gioco! Grande! Con questo gioco imparerai a conoscere le parti del corpo come le tue tasche! Vedrai! Sarà molto divertente! Ti chiederò di fare clic su una parte del corpo della bambina o del bambino Per esempio la testa della bambina Se fai clic sulla parte giusta del corpo apparirà un'etichetta che ne indica il nome È super facile! Se fai apparire dieci etichette che indicano le parti del corpo ti darò un pezzo del puzzle! Prima di cominciare ho bisogno di sapere quanto ti senti in forma Se ti senti un campione con le parti del corpo fai clic sul pulsante blu Se invece ti senti un super campione fai clic sul pulsante arancione Ok! Giochiamo! Sai dove trovare le dita del piede del bambino? Prova di nuovo! All'estremità del piede hai le dita Fai clic sulle dita del piede del bambino Ci sai fare! Mi fai solletico! Sai trovare l'ombelico della bambina? Bene! Mi fai solletico! Sai dove trovare la bocca della bambina? Ci sai fare! Sai trovare la mano del bambino? Esatto! Riesci a trovare l'orecchio del bambino? Giusto! Qual è il colmo per una faccia che va a un processo? Dire giuro non mento! Sai dove trovare i capelli della bambina? Bene! Riesci a trovare la testa del bambino? Bene! Sai trovare la gamba della bambina? Esatto! Sai trovare il braccio della bambina? Esatto! Sai dove trovare il naso del bambino? Giusto! Eci! L'etichetta mi ha fatto starnutire! Ben fatto! Sai davvero tutto sulle parti del corpo umano! Sei un campione! ti meriti proprio un pezzo del puzzle! Fai click sul bambino se vuoi fare ancora il gioco delle parti del corpo se invece vuoi tornare dagli altri fai click sul pulsante con la casa bentornato! Guarda! Eccoti un pezzo di puzzle da inserire! Scopri dove devi metterlo e poi trascinalo nella posizione giusta! Bene! Ottimo lavoro! Grande! Prepariamoci a giocare a calcio! Wow! Sono una gran tifosa di calcio e adoro fare gol! Con il tuo aiuto oggi farò un sacco di gol! Ne sono sicura! Prima di cominciare devo sapere con quanti palloni vuoi giocare? Se vuoi dare il calcio di inizio e scegliere fra tre palloni fai click sul pulsante blu Se vuoi essere un capo cannoniere e scegliere fra sei palloni fai click sul pulsante arancione Vedi questi palloni qui in fila? Su ognuno c'è una lettera minuscola Le lettere dell'alfabeto possono essere minuscole o maiuscole Quelle maiuscole si usano come iniziali per i nomi propri di persona o di luogo La maiuscola si usa anche a inizio frase o dopo il punto Il mio nome Millie inizia con una lettera maiuscola Anche il tuo inizia con una maiuscola Nel mio gioco del calcio devi abbinare la lettera maiuscola che appare nella rete con la corrispondente lettera minuscola su uno dei palloni Ecco una lettera maiuscola Sai che lettera è questa? Questa è la ha il suono Fai click sul pallone che ha la stessa lettera ma minuscola Quando indovini il pallone con la lettera giusta RETE! Io segno un gol Evviva! Quando avrai fatto gli abbinamenti giusti per due gruppi di sei lettere e io avrò segnato dodici gol ti darò un pezzo del puzzle Bene Adesso che ti sei allenato giochiamo Ecco un'altra lettera maiuscola Goal! Questa è la E maiuscola e questa è la E minuscola Ecco un'altra lettera Niente gol questa volta forse la minuscola è sbagliata Evviva! È entrato in rete! Un altro gol della fantastica Millie e della sua Questa è la F maiuscola e questa è la F minuscola Mi viene in mente l'ultima volta che ho giocato a calcio con Biff Il pallone gli è scoppiato sul corno Ecco un'altra lettera nella rete Gol! Che gol! Hai scelto la minuscola esatta Questa è la D maiuscola e questa è la D minuscola Ecco un'altra lettera nella rete Evviva! E fa gol! Grazie a un tuo fantastico passaggio Questa è la C maiuscola e questa è la C minuscola Un'altra lettera da abbinare in questa partita gol! E fa gol! Grazie a un tuo fantastico passaggio Questa è la B maiuscola e questa è la B minuscola Facciamo un'altra partita Alla fine di questa partita ti darò un pezzo del puzzle Ok ecco i palloni con le lettere minuscole Ecco un'altra lettera nella rete Rede! Questa è la B maiuscola e questa è la B minuscola ecco un gol è entrato in rete un altro gol della fantastica Millie ed è la sua scuola Questa è la D maiuscola e questa è la D minuscola ecco un'altra lettera gol che gol hai scelto la minuscola esatta questa è la E maiuscola e questa è la E minuscola voglio fondare la mia squadra di calcio la chiamerò imparo giocando con Tom Susy Millie Beef Football Club io sarò il capitano e tu sarai dei nostri ecco un'altra lettera nella rete evviva è entrato è entrato in rete un altro gol della fantastica Millie ed è la sua scuola questa è la F maiuscola e questa è la F minuscola ecco un'altra lettera rete questa è la C maiuscola e questa è la C minuscola un'altra lettera da abbinare in questa partita gol e fa gol grazie a un tuo fantastico passaggio questa è la A maiuscola e questa è la A minuscola 12 lettere e 12 fantastici gol che bello averti in squadra con me te la sei proprio cavata con le lettere minuscole e maiuscole eccoti un pezzo del puzzle se vuoi giocare ancora con le lettere fai clic su di me se invece vuoi unirti agli altri fai clic sul pulsante con la casa ciao guarda eccoti un pezzo di puzzle da inserire scopri dove devi metterlo e poi trascinalo nella posizione giusta perfetto adesso cerca un altro pezzo di puzzle grande andiamo a vedere le gare di razzi nello spazio questa gara è troppo divertente ci sono due cose che adoro i numeri e lo spazio intergalattico solo una cosa potrebbe rendere la gara ancora più bella che la luna fosse di formaggio prima di partire a razzo devo sapere come te la cavi a fare il giudice se pensi di essere un giudice in gamba per una gara spaziale fai clic sul pulsante blu se invece pensi di essere un giudice davvero in gamba per una gara spaziale fai clic sul pulsante arancione oggi nello spazio c'è una gara di razzi tutti i razzi sono sul pianeta di partenza pronti a partire faranno una gara nello spazio cercando di evitare i piccoli pianeti per arrivare primi al pianeta di arrivo quando il primo razzo atterrerà sul pianeta di arrivo ti consegnerò delle medaglie spaziali devi assegnare le medaglie ai razzi siete arrivati al primo al secondo al terzo al quarto al quinto e al sesto posto trascinandole sopra ciascuno guarda così devi darla al razzo arrivato primo devi darla al razzo arrivato secondo devi darla al razzo arrivato terzo devi darla al razzo arrivato quarto devi darla al razzo arrivato quinto devi darla al razzo arrivato sesto se entrerai a far parte della giuria per quattro gare ti darò un pezzo del puzzle ora inizia la gara ok cinque quattro tre due uno via wow guarda che gara chi pensi che vincerà guarda ha vinto il razzo giallo consegna questa medaglia al razzo arrivato primo giusto questa medaglia è per il razzo arrivato secondo bene il razzo arrivato terzo riceve questa medaglia giusto consegna questa medaglia al razzo arrivato quarto grande questa medaglia è per il razzo arrivato quinto esatto il razzo arrivato sesto riceve questa medaglia giusto ora inizia la gara ok cinque quattro tre due uno via guarda guarda com'è lento quel razzo pensi che arriverà ultimo hai visto ha vinto il razzo blu consegna questa medaglia al razzo arrivato primo esatto esatto questa medaglia è per il razzo arrivato secondo esatto grande il razzo il razzo arrivato terzo riceve questa medaglia giusto consegna questa medaglia al razzo arrivato quarto esatto questa medaglia è per il razzo arrivato quinto grande il razzo arrivato sesto riceve questa medaglia esatto pronti a partire ok cinque quattro tre due uno via wow guarda che gara chi pensi che vincerà guarda ha vinto il razzo rosso consegna questa medaglia al razzo arrivato primo esatto questa medaglia è per il razzo arrivato secondo esatto il razzo arrivato terzo riceve questa medaglia giusto consegna 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 questa medaglia al razzo arrivato quarto esatto questa medaglia è per il razzo arrivato quinto bene il razzo arrivato sesto riceve questa medaglia giusto ora inizia la gara ok cinque quattro tre due uno via wow guarda che gara chi pensi che vincerà orrà ha vinto il razzo rosa consegna questa medaglia al razzo arrivato primo giusto questa medaglia è per il razzo arrivato secondo grande il razzo arrivato terzo riceve questa medaglia esatto consegna questa medaglia al razzo arrivato quarto esatto questa medaglia è per il razzo arrivato quinto esatto il razzo arrivato sesto riceve questa medaglia grande orrà ce l'hai fatta ora tutti i razzi hanno le loro medaglie per te ho un pezzo del puzzle stratosferico se vuoi assegnare le medaglie stellari in un'altra gara di razzi fai click su un pianeta bentornato guarda ecco ti un pezzo di puzzle da inserire scopri dove devi metterlo e poi trascinalo nella posizione giusta esatto bel lavoro congratulazioni questa parte del puzzle è completa è giunto il momento di esplorarla prova a fare click sulla figura e stai a vedere cosa succede non dimenticarti che ci saranno altri quattro pezzi di puzzle da cercare nel prossimo numero sei sicuro di voler uscire fai click sul pulsante verde per smettere di giocare ciao ciao ciao